Ciao a tutti ragazzi! Io sono Matteo e insieme vedremo alcuni verbi particolari del latino. Avete capito bene, ho detto particolari e quindi dovrete impararli a memoria. Non preoccupatevi però, grazie a me e a Repetita ovviamente, tutto vi sembrerà molto più facile. Per cominciare però, ascoltiamo quello che Adriano dice in questo video. Guardate! Prima c'ero, adesso non ci sono. Allora tu mi dirai, ma perché adesso ci sei? E io ti dico, ma cosa te ne frega te? Basta che ci sono. L'importante è per te che ci sia, anche se non ci sono. Per gli altri non ci sia, ma per te ci sono. Ci sei? Non ci sono. E allora chi c'è? Ci sei tu? Non ci siamo. Bravo Adriano! Avete visto ragazzi, anche per far ridere è necessario conoscere la coniugazione dei verbi e infatti Adriano ha giocato con la coniugazione del verbo essere, che in latino si dice sum. Il suo imperfetto però è un po' irregolare e certamente voi vi starete chiedendo perché l'imperfetto del verbo sum in latino è irregolare. Niente paura, ve lo spiego subito. Abbiamo già visto come si forma l'imperfetto di tutti i verbi irregolari, come pascere, che all'imperfetto fa pascebam. Vi ricordate da cosa è composto? Dal tema del presente, pasce, più il suffisso tipico dell'imperfetto, ba, e infine le desinenze personali, in questo caso di prima persona singolare, emme. Io pascolavo. Ebbene ragazzi, per un momento dovete dimenticarvi di tutto questo. Il latino, per costruire l'imperfetto del verbo essere, sum, si parte da un tema particolare, era. E a questo tema si aggiungono tutte le desinenze personali, così come negli altri casi. L'intera coniugazione del verbo essere all'imperfetto, allora, è questa. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. È tutto chiaro ragazzi? Se sì, non vi resta che esercitarvi, ovviamente con gli esercizi di ripetita.